Ciao a tutti, sono Nicola, lui è Ivan, lui è Gianluca di MikaMai, team MikaMaiam per il 48 Rays, chissà che se non c'è MikaMaiam, MikaMaiam. Noi abbiamo sviluppato un gioco, se avete mai pensato a fare una battaglia strana tra bene e male o buoni contro cattivi, noi abbiamo fatto una, è stata sulla conoscenza, potete combattere Hitler contro Gandhi o la teoria della relatività contro Lusso, si chiama 9 Swords e vi invitiamo a provarla, cos'altro? Provate Obama contro il Paolo, è una sfida che è molto agguerrita. La competizione finora è stata bellissima, agguerrita e siamo quasi ultimi, quindi No, 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 siamo secondi nel loro erode, direi che siamo un buon punto. Ciao a tutti, ringraziamo tutti gli organizzatori per tutti i miei comandi che ci hanno dato e la loro grande gentilezza. Grazie mille. 48 Rays? 48 Rays! 48 Rays! 48 Rays! 49 Rays! 49 Rays! 49 Rays! 49 Rays! 50 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 Rays! Grazie a tutti.